Dopo l'arresto del boss Michele Zagaria, capo indiscusso del clan campano dei Casalesi, reso celebre dal noto libro Gomorra di Saviano, proseguono in tutta Italia le indagini delle forze dell'ordine per abbattere la fitta rete di attività economiche contaminate dalle infiltrazioni camorristiche. Ad opera della direzione investigativa antimafia di Napoli sono stati sequestrati beni per oltre 100 milioni di euro in Campania, Lazio, Toscana, Lombardia ed Emilia Romagna. Nella nostra regione dove da tempo suona forte l'allarme delle infiltrazioni mafiose nelle attività economiche, a finire sigillato è il noto Beach Café di Riccione che dopo l'arresto del proprietario Flavio Pelliccioni sembra essere uno dei tanti luoghi di riciclo di denaro sporco. Una prova quindi di quanto sia grave il problema delle infiltrazioni mafiosi in riviera anche ad opera di uno dei più spietati clan della malavita campana per cui questa inchiesta denominata Il Principe e la scheda ballerina ha visto la richiesta d'arresto per il parlamentare PDL Nicola Cosentino e il coinvolgimento come indagato del presidente della provincia di Napoli Luigi Cesaro. Mentre il titolare del Beach Café di Riccione si difende dichiarando di non sapere di avere a che fare con la camorra, si vocifera da diverse settimane di come altre realtà legate al mondo della notte sarebbero delle vere e proprie centrali di riciclo di denaro sporco, ripulito grazie alla riviera.